Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine dell'atteso, figlie della grazia, serva umile del Signore, custodisci la nostra vita. Accompagnaci con il tuo passo fedele su strade di liberazione. Ravviva lo stupore e l'entusiasmo di esistere. Portaci nel tuo purissimo cuore. Aiutaci a pensare secondo il Vangelo, amando e servendo la famiglia, gli anziani, i giovani, i poveri, chi soffre e spera. Beata Vergine Maria, volgi il tuo sguardo sulla Chiesa e il mondo trepidante nella tempesta. Guidaci a Gesù, volto misericordioso del Padre, nostro Salvatore. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.